Insieme a Valeria Cicala presenteremo i sei progetti che sono stati premiati nella sezione Archivi. Ricordo ai natori di restare entro il quarto d'ora, visto che il programma è molto fitto, e quindi passo subito la parola al primo progetto in programma, è Libertaria, è un progetto che è stato meritato dal Museo Civico del Sorgimento di Bologna, in portazione a Gatto con il liceo Laura Barsi.